ingredienti dosi per quattro persone 450 grammi di fagiolini 40 grammi di farina 70 grammi di burro due bicchieri di latte 75 centilitri di brodo prezzemolo sale noce moscata e crostini di pane preparazione lessare i fagiolini insaporirli in metà burro e passarli al setaccio in una casseruola sciogliere l'altro burro unire latte farina sale noce moscata e cuocere per 5 minuti mescolando unire i fagiolini e continuare la cottura per altri 10 minuti versare il brodo e portare ad ebollizione cospargere di prezzemolo tritato e servire con crostini di pane il piatto è pronto buon appetito